Il Milan è tornato ad essere una squadra. Pioli e Ibrahimović hanno fatto un ottimo lavoro. Sorprendente, direi, rispetto ai tempi di Giampaolo. Nelle ultime sette partite, cioè quasi un terzo del campionato giocato, il Milan ha fatto 14 punti, una media di due a partita, cioè una media da buon secondo posto finale. Ma quello che più conta è che ha fatto due punti più dell'Inter, che pure lo ha battuto nel derby. Quindi molta strada. Non so se Ibrahimović funzioni come un doping atteso, ma fine a se stesso, non avendo in pratica un futuro. Però con lui e con Pioli è cambiato veramente molto. È come se la squadra avesse ritrovato il gusto di tentare l'impresa invece che subirla. La sorpresa è però l'aria che respira Rebic, giocatore di forza e di modernità, non un fuoriclasse, a volte atipico, ma quasi universale. Personalmente non avrei mai scambiato il suso per Rebic. Ed altrettanto evidentemente sbagliato.